Ciao amici sportivi appassionati di Audi, sono Dindo Capello e sono qui seduto su una bellissima Audi 80 con la quale ho partecipato al campionato italiano superturismo 1994. 1994 2014, esattamente 20 anni dall'inizio dell'impegno Audi nelle competizioni in Italia, un avvenimento così importante che vorremmo condividerlo insieme a voi. E come abbiamo deciso di coinvolgervi? Creando un contest dove vi chiediamo di riprodurre una livrea che vorreste vedere a Misano 2014 al debutto del campionato italiano GT3 con l'Audi R8 che si ispira alla vettura sulla quale sono seduto in questo momento. Partecipare è facile, loggatevi o registratevi su Audi Experience se non lo avete ancora fatto. Lì troverete tutti i dettagli su come partecipare al contest. Caricate i vostri lavori e alla fine una giuria di qualità sceglierà la livrea dell'R8 che parteciperà a maggio al debutto del campionato italiano GT3 a Misano. Nel farvi un grande in bocca al lupo do appuntamento a tutti voi l'11 maggio a Misano Adriatico. Ci vediamo in pista! Grazie! Grazie!